E se invece di un'adozione ce ne fosse una allargata, una famiglia? Andiamo a conoscere Claudette, una mix spinoncina e i suoi bellissimi cuccioli. Lei è una giovanissima mamma mix spinone che è stata calappiata assieme ai suoi pargoletti, o meglio pargoloni, visto che sono futura taglia medio-grande sui 35-40 kg. Invece la mamma, ossessionata dai figli, poverina, è una mix spinoncina appunto di una ventina di chili. È giovanissima, un paio di anni lei, mentre loro hanno circa tre mesetti, ovviamente sono tutti adottabili, lei sarà affidata già sterilizzata con regolare test per l'esmania e l'erlichia e loro invece con microchip e vaccini. Quindi adottateli, che abbiate una casa abbastanza grande per loro, quindi abbiamo bisogno di uno spazio extra large.